Ciao a tutti, un saluto dal monte Tudaio, c'è parecchio vento, spero si sente, ma anche se non si sente non importa, non è niente di importante da dire, vi mostro un po' il panorama. Anzi, mi tiro di mezzo. La giornata non è bellissima, ma c'è un po' di sole. La considerazione è che io sono venuto qui, sarei stato più di vent'anni fa con il papà, su questo monte, e vi ricordo che in generale quando si andava su in montagna, si parlava con quelli che restavano a casa e si diceva guardate a luna, a luna del pomeriggio, guardate verso la montagna, con il pinombolo, e cercate di ritrovarci, allora ci si salutava, così con la mano, se si riusciva a vedere quel puntino, la persona sopra il monte che si muoveva. Adesso è molto diverso, adesso col telefonino è più facile, ci si sente, il neocolo quasi è più facile, però non c'erano nessuno, i parenti che conoscono, e non c'erano nessuno, 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 non c'erano l'altra considerazione è che ai piedi del monte, prima di fare la salita, si trovano dei bastoni, che la gente lascia, sì, per aiutarsi un po' nella salita. Ecco la domanda che mi chiedo, ma questi bastoni quanto vecchi sono, perché li prendi prima di iniziare la salita, poi la salita, e quando torni giù, lo lasci all'inizio del sentiero dove c'è un bel mucchietto di questi bastoni, interessante sapere se sono tutti di questa stagione, o se sono vecchi di qualche anno. bene, io vi lascio così, vediamo sotto un po' di video, vi fateci qua tutto e se li mette su Youtube, li metto qui in descrizione. Ciao a tutti, adesso iniziamo a fare la scelta che è la parte più paurosi, e lo seguo tutti bene e ci chiede sempre alla prossima iniziamo a fare la scelta, ciao ciao!